E' un medico di 71 anni, il primo vaccinato in Sardegna, Silverio Piro, infettivologo e uno dei pensionati richiamati in trincea per combattere la guerra contro il coronavirus. La sensazione, ha detto il medico, è la stessa di un vaccino anti-influenzale. Per rispettare il V-Day che si è svolto in contemporanea su tutto il territorio nazionale, nell'isola sono arrivate a Cagliari, sabato sera da Roma, con un volo dell'aeronautica militare 180 dosi di vaccino Pfizer. La preziosa scatola è stata presa in custodia dai militari del reggimento logistico della brigata Sassari, scortata dal comando provinciale dei carabinieri di Cagliari e trasportata all'ospedale Brozzo di Cagliari. Il sottosegretario della difesa, Giulio Calvisi, presente all'aeroporto di Elmas all'arrivo dei vaccini, ha sottolineato il grande lavoro svolto in coordinamento con il Ministero della Salute e Speranza e con il commissario straordinario Arcuri. L'articolato piano di distribuzione prevede l'utilizzo di 11 aerei, 73 elicotteri e oltre 360 autoveicoli. Un'organizzazione logistica complessa che contempla anche l'utilizzo di shelfers frigo in dotazione alla difesa. Si prevede di costituire inoltre delle postazioni vaccinali fisse e mobili attraverso la riconversione dei drive-thru difesa, attualmente operativi in tutta Italia per effettuare i tamponi. Nell'RSA e per i cittadini con difficoltà motorie sono stati predisposti team che si recheranno a domicilio.